musica 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 ma che storia allora funziona sto programma madonna no sta faccio musica musica let's go bitches sono power cazzo ma sono troppo musica musica let's go bitches sono power finalmente sapete vedete finalmente la faccia che c'è dietro alla voce che sentite ogni volta nei miei video e questo video è un video particolare perchè prima cosa è un video per celebrare i 10.000 iscritti che penso arriveranno a breve quindi siamo in road to ten thousand oltre a questo vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato per arrivare fino a questo punto come per esempio wania che mi ha dato veramente un grandissimo supporto e voglio ringraziare proprio per questo quindi grazie a tutti i ragazzi di wania specialmente a martelli che non è colpa sua ma quindi grazie a martelli e comunque a tutte le persone che mi hanno aiutato finalmente a tagliare una piccola fetta in quello che è il mondo del gaming di youtube italiano comunque detto questo come vedete è un vlog abbastanza spontaneo non ho preparato niente voglio solamente cercare di farlo il meglio possibile mi impappinerò due miliardi di volte ma non cambiamo comunque prima cosa mi sento stranissimo a parlare a uno schermo dove mi rivedo in faccia quindi è una cosa terribile fare questo vlog il primo vlog che faccio o al terrore comunque oltre a questo voglio parlarvi di cosa farò per i 10.000 iscritti bene farò un question and answer cosa sarebbe? cioè voi mi farete delle domande in questo video e anche sulla pagina di facebook perchè si ho aperto finalmente una magia di facebook e siamo quasi a 1000 like quindi vi ringrazio per il supporto mettete un altro like andate così tipo così il pollice di facebook però oltre a questo voglio dirvi di andare a mettere mi piace sulla pagina e di farmi qui le domande che volete che io rispondi cioè le domande a cui io risponderò nel video di 10.000 iscritti appena li farò che sarà sempre un vlog come questo quindi vabbè comunque ricapitolando potete farmi qualsiasi domanda volete io prenderò le migliori quelle più votate quelle che secondo me sono le più interessanti e cercherò di rispondere al meglio possibile perchè cosa posso fare? cioè posso fare solo questo comunque quindi questo sarà quello che voglio fare per i 10.000 iscritti e voglio anche consigliarvi di passare su Knockout Community che vedete insomma in pressione c'è anche questa parte vedrete qui il logo di Knockout Community cos'è Knockout Community? è un progetto che abbiamo avviato io e altri youtuber come bellox inside code creed inside code karma t black game troppo giallo sarebbe non mi ricordo il canale cazzo e saviultras90 comunque che abbiamo avviato questo progetto dove raccoglieremo le clip di code quindi un canale dedicato principalmente a code dove raccoglieremo le clip migliori video migliori commentary migliori gameplay assurdi sniper montage cam veloci gun strike elevatissima eccetera eccetera in questo canale in modo da avere finalmente un canale che raccolga quelli che sono i gameplay più belli dei giocatori italiani detto questo vi invito di nuovo a fare le domande qui sotto perchè penso che il video si qui sotto i suoi commenti cazzo è troppo strano parlare davanti al computer così in questo modo però ugualmente vi voglio ringraziare perchè siamo quasi arrivati ai 10.000 iscritti siamo perchè siamo noi tutti insieme e non parlo al singolare perchè solo attraverso voi che sono riuscito ad arrivare fino a questo punto e spero di non fermarmi e quindi vi saluto penso non ci sia nient'altro da dire alla fine al prossimo video let's go bitches